L'Europa per noi era welfare, l'Europa per noi era uguaglianza, per noi era il frutto in qualche modo dell'Europa e il frutto della russure francese. Oggi invece perché c'è questa forma di distacco dell'Europa? Per un motivo molto semplice, perché l'Europa è diventata in qualche modo la banca centrale. Dove il fiscal compact conta più che qualunque altra cosa e questa è la tragedia appunto del loro distacco tra l'Europa e il cittadino europeo.